Bentornati a tutti. Oggi è sabato, 10 agosto 2024. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Ariete. Cari Ariete, la luna opposta in queste ore potrebbe causare ritardi e provocare dei contrattempi. Tuttavia, ciò capita in un periodo per voi positivo e stimolante in cui vi sentirete a vostro agio e vi divertirete molto. Fino alla fine del mese di agosto 2024 la vostra attenzione sarà rivolta all'amore. Coraggio. Panoramica di agosto abbastanza felice per voi, arriva un maggiore contributo di verve e di lucidità mentale da parte delle forze planetarie. Le spenderete sia in campo amichevole che nel settore familiare. Ottimo il rapporto con figli e figli, fratelli e sorelle. Sabato ideale per viaggiare e incontrare qualcuno, magari iniziare finalmente la vacanza col partner, impersonato da una tenerissima luna bilancina, raggiungere i cari, figli, parenti, amici, ovvero il sole caliente intrigono. Il sestile giove e marte alimenta il vostro entusiasmo, ma vi fa correre troppo forte, moderate l'andatura, tutti vi aspettano per abbracciarvi, ma vivi e vegeti. Pagellina del giorno. Sentimenti. 10. Attività. 10. Finanze. 8. Bene essere. 10. Toro. Cari toro, sul lavoro dovete fare e rivedere molte cose. Queste settimane estive sono fondamentali per recuperare un amore. Questo è il momento ideale per dimenticare il passato ma continuando a fidarvi del vostro istinto. Voltate pagina. Interessanti le relazioni con le persone del cancro o della bilancia. Assetto dei transiti discreto dove a darvi qualche piccolo fastidio e lieve nervosismo c'è rimasta una coppia di pianeti, sole e plutone, che è sempre in leone e in acquario. Fate attenzione in famiglia e specie nell'eterno rapporto genitori, figli, in cui potreste incontrare oggi qualche lieve di sapore, in specie al modo se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 21 del mese di aprile al 3 del mese di maggio. Pagellina del giorno. Sentimenti, 5. Attività, 9. Finanze, 10. Bene essere, 9. Gemelli. Cari gemelli, in questo periodo si farà decisamente un passo in avanti. Nel corso delle prossime ore vi sentirete molto meglio rispetto al recente passato. La luna in bilancia vi aiuterà a ritrovare la pace che vi è mancata negli ultimi tempi. L'amore richiede molta, molta pazienza. Plutone, sole e luna nel segno del dell'acquario, del leone e della bilancia collaborano a rendervi attori nati. Vi sentite oggi leggeri e vivificati nell'espressione del vostro io un po' teatrale, in specie al modo se siete nati dal giorno 31 di maggio al 6 del mese di giugno. Molti di voi si esibiscono con gli amici e i parenti, intrattenendoli con la loro spumeggiante e irresistibile simpatia. Che voglia di viaggio, di sport, di socialità, con Giove e Marte nel segno ringalluzziti dal trigono lunare in bilancia, non vi basta goderveli da soli, volete condividerli con la persona del cuore, coi figli, con tutti coloro che fanno parte del vostro entourage. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10, attività, 10, finanze, 10, benessere, 10. Cancro. Cari cancro, in questo momento si preferiscono contratti e accordi. Dovete fare la vostra parte e cercare di non imporvi troppo o causare inutili polemiche sterili. Ci saranno nuove proposte da valutare a fondo. Frequentate la persona e non perdete troppo tempo con persone superficiali e allo stesso tempo complicate. Armoniosa giornata d'agosto con Mercurio e Venere, pianeti amici dal segno fidato alleato della Vergine a gratificarvi la giornata specie. Se siete nati nella prima decade in serata i pianeti vi fanno alzare il livello del tono e dell'umore, dopo eventuali momenti di dispersione. La vita familiare vi offre le migliori soddisfazioni, specie se crescete bimbi piccoli che vi allieteranno con i loro estri e i tipici infantili capricci. La luna bilancina vi vede in bilico tra la voglia di partire e la pigrizia di mettervi in moto, se sta così bene anche a casa, soprattutto se c'è l'aria condizionata e un razzo dove trascorrere la serata, chiacchierando e bevendo qualcosa tra le piante fiorite. Vari imprevisti da non sottovalutare, per fortuna addolciti dalla presenza di Giove che affianca Marte nella vostra dodicesima casa. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6, attività, 5, finanze, 6, benessere, 5. Leone. Cari Leone, questo è un mese stimolante che vi regalerà anche tante emozioni da vivere più a fondo possibile. Potrete realizzare molto sia in amore sia nel lavoro. Chissà, magari incontrerete qualcuno di speciale. Il sole nel vostro segno zodiacale potrebbe offrirvi una o più opportunità di lavoro da non perdere. Il sole nel vostro segno allieta l'atmosfera di questo agosto 2024 in cui il cielo si fa via via sempre più sereno e più blu. Urano, è vero, vi contrasta dal segno nemico amatissimo del toro, ma giusto per invitarvi a dedicare le vostre energie a casa e a famiglia che forse state un po' trascurando. Giove vi guarda benevolo dall'amico segno dei gemelli e una forma spettacolare vi contraddistingue, permettendo alla vostra personalità così magnetica di essere in piena luce. Questo più in evidenza se siete leoni nati nella seconda decade. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10. Attività, 10. Finanze, 10. Beneessere, 10. Vergine. Cari Vergine, nel corso delle prossime ore di questo mese di agosto 2024 gli astri vi spingeranno a smettere di pensare e ad agire in modo più istintivo e deciso. Se non vi piace qualcosa, chiudetelo senza farvi mille pensieri. Se volete cambiare la vostra vita, fatelo e basta. Venere e Mercurio congiunti in Vergine e Urano nel segno a voi amico del toro possono segnalare un desiderio di relax, di pace, di silenzio. Tutte richieste che la vostra famiglia, ora riesce a soddisfare. Con Saturno e Nettuno ostili, la giornata mostra qualche lieve nube passeggera, forse dovuta alla stanchezza. Godetevi la piete che la bella stagione di vacanza estiva vi sta donando. Difficile concludere il lavoro in tempo utile con il vostro capo che trova sempre qualcosa da farvi fare fino all'ultimo minuto, naturale con Giove esagerato e Marte battagliero abbracciati allo zenit in quadratura al vostro segno, mentre il sole, ovvero la vostra energia, spremuta come un limone, si barcamena come può nella vostra dodicesima casa. Tenete duro, il guadagno, precisa la luna bilancina, è più che buono, dunque ancora un piccolo sacrificio prima di potervi riposare lasciandovi finalmente alle spalle tutti i contrattempi e le sgobbate di queste ultime settimane. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8, Attività, 8, Finanze, 10, Benessere, 8. Bilancia. Cari bilancia, nel corso delle prossime ore di questo mese di agosto 2024 sperimenterete una grande spinta energetica mentre la luna transita nel vostro segno. Quando vi innamorate provate bellissime emozioni. Cercate di fare incontri speciali e stringete nuove amicizie. Giornate come queste che state vivendo possono essere sfruttate per staccare la spina e riposarsi un po'. Culmine del mese di agosto che si rivela per voi fortunato con gli influssi della luna ospitata felicemente nel vostro segno, che condiziona beneficamente tutta la giornata. Ottimi gli effetti sulla vita relazionale in genere e in particolare nel rapporto con gli amici e con i familiari. Un aspetto e una forma fisica strepitosa vi accompagnano. Che bel se stile quello che collega la luna nel vostro segno con il sole in leone, a sua volta connesso con Giove e Marte allegri e disinvolti in gemelli. Un sabato perfetto per viaggiare, incontrare amici, realizzare qualcosa di bello per se stessi e di piacevole per gli altri, l'essenziale è condividere principi e valori, stare bene in compagnia senza rischio di urtarsi e godere appieno di tutte le sensazioni e quelle grandi, piccole emozioni che la vita regala, soprattutto in viaggio. Pagellina del giorno. Sentimenti, 9, attività, 10, finanze, 10, benessere, 10. Scorpione. Cari Scorpione, la tensione vissuta negli ultimi giorni è finita. Da qui in poi dovreste fermarvi a considerare nuovi progetti e impegni, mentre si avvicina un periodo particolarmente fruttuoso. Anche se all'inizio il cambiamento può incutere un po' di timore e qualche incertezza, presto vi renderete conto che ne sarà valsa la pena. Coraggio. Sole e Plutone, pianeti a voi molto congeniali, formano un aspetto difficile, dunque possono in questa giornata d'agosto determinare piccole contrarietà nel quotidiano e tra i familiari. La vostra tendenza a minimizzare per poi trovare un'efficace soluzione a tutti i problemi vi viene in soccorso. Saturno negli amici pesci accompagnato da Nettuno in posizione straordinaria vi permette di ottenere risultati insperati fidando nella libertà di iniziativa. E come al solito vincerete grazie al vostro temperamento controcorrente e alla capacità che avete di capovolgere le situazioni a vostro vantaggio. Pagellina del giorno. Sentimenti, 7, attività, 6, finanze, 8, benessere, 6. Sagittario. Cari Sagittario, nel corso delle prossime ore di questo mese di agosto 2024 potreste sentirvi poco bene o in ogni caso alquanto agitati, dovrete sforzarvi nello stare calmi ed avere più pazienza. Qualcuno potrebbe aver già accettato impegni onerosi per l'autunno e qualcuno potrebbe aspettarsi nuove interessanti opportunità. È una giornata di piena estate in cui avvertirete un po' di stanchezza, forse più mentale che fisica. La luna, parte emotiva della personalità, è nel segno amico della bilancia e vi suggerisce di dedicarvi maggiormente ai voi stessi, magari trovando interesse nella lettura di un buon libro. Recuperate poi rapidamente anche nel riposo notturno e ritroverete presto il vostro spirito pimpante e sereno. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10, attività, 10, finanze, 10, benessere, 10. Capricorno. Cari Capricorno, c'è tanto da lavorare per fare chiarezza e capire se ci si può fidare delle persone che avete accanto. Non è mai facile farlo e a volte anche pensarlo dopo aver ricevuto sonore fregature. Per quanto riguarda il lavoro, d'ora in poi diventerete più forti. Molto più forti. Venere, Mercurio, Urano, Nettuno e Saturno sono tutti ai vostri piedi e vi aprono smaglianti successi. È tuttavia probabile che la vita familiare e relazionale quest'oggi vi ponga qualche limitazione e impegno imprevisto per via della sola luna imbronciata dalla bilancia. Non ci date peso più di tanto e procedete spediti nella logica dei vostri comportamenti, badando a tenere ben custoditi i vostri affetti più autentici. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6, attività, 8, finanze, 6, benessere, 7. Acquario. Cari Acquario, quello che state vivendo sarà un momento interessante a livello di relazioni. Di tutti i tipi. Uscite dalla zona comfort, datevi da fare. Anche le coppie di lunga data hanno i loro problemi causati da qualche spesa di troppo. Per quanto riguarda il lavoro, vi offriranno nuove opportunità interessanti. La luna è in bilancia e l'area d'estate piena è lieta e vivace per tutti voi Acquario. Il sole pur tecnicamente negativo dal leone vi stimola a uscire allo scoperto, ad agire, a far sentire la vostra presenza. La vostra vita sociale si riempie di verve, diviene spumeggiante e non vi permette di annoiarvi di certo. Ecco dunque una giornata come a voi più piace, tutta da inventare e da assaporare con il vostro estro, la voglia di trasgredire e giocare su più tavoli. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6, attività, 8, finanze, 6, benessere, 7. Pesci. Cari pesci, nel corso delle prossime ore di questo mese di agosto 2024 potreste risentire dei fastidi emersi nelle ultime ore. L'opposizione di Venere evoca paura e confusione riguardo all'amore rendendovi più sospettosi e critici nei confronti degli altri. Non è sicuramente un periodo facile da affrontare. Urano, fedele appoggio dall'amico Toro, vi assicura una forma psicofisica strepitosa. Plutone, Nettuno e Saturno invece, sono ospitati tra il buon vicino Aquario e il vostro segno, aumentando le vostre ambizioni in generale, specie se siete nati nella prima e nella seconda decade. Sentite il bisogno di recuperare, nello sport e nell'attività fisica un po' dell'energia che adesso appare sopita. Forse ci sarà la necessità di declinare alcuni inviti e ritrovi con amici cui avevate inizialmente assicurato la vostra presenza. Niente di grave in ogni caso. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8, attività, 7, finanze, 9, benessere, 8. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.